Ciao a tutti cari amici, quella che sto per raccontare è una storia a lieto fine, fortunatamente, ma che poteva prendere una piega totalmente diversa. Poco fa è andata via la corrente e io sono rimasto chiuso in ascensore per 5 interminabili minuti. Senza farmi prendere dal panico, per sopravvivere ho dovuto bere le mie urine e mi sono nutrito di carne e di pipistrello, che fortunatamente porto sempre con me nel caso si verifichino episodi di questo genere. Poi all'improvviso è tornata la corrente, le porte dell'ascensore si sono riaperte ed io sono tornato libero, sano e salvo, grazie anche al mio temperamento, alla mia lucidità mentale. Ecco, spero che questa storia possa essere d'esempio per tutti, per tutti coloro che ogni giorno si trovano ad affrontare mille difficoltà. Sappiate che non siete soli e che ci sono mille modi per sopravvivere in un ascensore. Io ne ho elencati alcuni, ma ci sarebbe lo sterco di cervo e così via dicendo. Poi tra l'altro a me è andata anche bene perché stavo da solo in ascensore e quindi ho bevuto le mie di urine, altrimenti sarei stato costretto a bere anche quelle degli altri. Che dire, siate sempre voi stessi ragazzi, qualunque cosa accada, siate sempre voi stessi.